Dipendenti più felici sul luogo di lavoro grazie all'esperto family friendly, ma anche mamme contente di mantenere lo stipendio al 100% durante la maternità. C'è poi chi propone check-up sanitari gratuiti e benefit salute e ancora chi ha introdotto l'università in azienda per la formazione dei giovani dipendenti. E' quanto emerge dal rapporto 2018 Welfare Index PMI, promosso da General Italia con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane, che per il terzo anno e a tre anni dall'avvio delle nuove normative in materia ha analizzato il livello di welfare in oltre 4.000 piccole e medie imprese italiane, circa il doppio rispetto al 2016, raddoppiate le imprese molto attive nel welfare aziendale con almeno 6 delle 12 aree analizzate. Focus allora su una nuova fase dei rapporti in impresa come sottolineato dal ministro del lavoro Giuliano Poletti. La cosa importante di questi strumenti è che molte imprese producono un dialogo con i lavoratori, c'è una flessibilità negli strumenti che possono essere usati e quindi c'è un'aderenza molto forte tra le aspettative e i bisogni e gli strumenti che si mettono in carta. Sempre più consapevolezza quindi che il welfare aumenta il benessere dei lavoratori e la produttività delle imprese, come conferma Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia. Cresce l'utilizzo del welfare, sono raddoppiate in tre anni le aziende che sono molto attive nel welfare, quindi con un utilizzo degli strumenti diffuso su tutte le aree. E' quello che le aziende rilevano, più utilizzano il welfare più rilevano non solo un benessere dei propri dipendenti, ma un aumento di produttività, quindi fa bene alle imprese il welfare, fa bene ai dipendenti e fa bene al paese perché ci ritroviamo aziende che sono più produttive. In particolare emergono tre principali aree nei quali il welfare aziendale ha un forte gradimento da parte dei lavoratori e degli imprenditori, saluti e assistenza, conciliazione vita-lavoro per una generazione sempre più compresa tra figli e genitori anziani a cui pensare e infine i servizi comuni, sempre più fondamentali per le PMI. Andrea Mencattini, amministratore delegato di Generali Wellion. Le piccole e medie imprese non hanno la dimensione delle grandi imprese per gestire autonomamente programmi di welfare aziendale sofisticati come quelli della salute e quindi Generali Wellion, che è la società che Generali Italia ha fatto nascere per servire il welfare aziendale, è particolarmente concentrata sulle PMI proprio per dare questi servizi alle piccole e medie imprese che consentano di superare il limite dimensionale e accedere a servizi di alto livello e di alta potenzialità pur essendo una piccola impresa. Welfare Index infine guarda anche a ciò che accade nel terzo settore, con una sezione dedicata. Lucia Sciacca, direttore comunicazione e social responsibility di Generali Italia. Il terzo settore è un elemento fondamentale della nostra economia, occupa oltre 5 milioni di lavoratori, è un settore che opera a cavallo tra il pubblico e il privato, combinando sia l'efficienza economica con le finalità sociali. È un settore di cui noi abbiamo bisogno, perché noi che vogliamo utilizzare il welfare, perché è fornitore di welfare aziendale anche all'esterno, ed è un settore che ha bisogno di un'ulteriore spinta.